In riferimento al video precedente qui una serie di immagini del mio primo incontro con il Bukanka ad Asciano e segue poi un video nel quale alcuni mesi dopo vado a ritirare il Bukanka che avevo ordinato Come ti senti? Un po' excited Sei un po' excited? Sì, sì, si, 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 se dice il gusto di una cosa facevate 1992 questa canzone la meraviglia proprio qui da sotto Allora, te l'avevo detto premi e mi gioco ancora una volta alla sera E l'ho vista? Ma non è! E veniamo, ci ha raccontato di questa cosa? Che vista che c'era? E poi va che bello che è mamma mia hai tirato giù tutto il bus devi sbatterla alla porta make sure you do that non ci posso creare non ci posso creare non 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 e dietro si sta portando dove era la retromarcia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti